Io sono Ernesto Lorenzetti, Presidente dell'Associazione Lavoro Entrico e Sviluppo e porto un sentito ringraziamento al Dottor Paolo Custone e all'architetto Palandrani che hanno avvenuto anche questa iniziativa come relatoria. La nostra è un'associazione che si pone l'obiettivo di affrontare temi che hanno un carattere generale e che poi possono essere ricalati direttamente nella nostra realtà letterale, per poter accogliere partecipazioni, contributi, poter proporre idee che possano portare a una risoluzione dei problemi che attivano un po' la nostra società di oggi. Il tema che abbiamo affrontato quest'anno è il tema della famiglia, questo è un secondo incontro perché secondo noi la famiglia ha un'importanza sulla evoluzione della società e quindi due argomenti che possono sembrare a quanto disgiunti, il tema della separazione dei divorzi e nuove soluzioni abitative a nostro avviso rimangono direttamente collegati. Non rubo altro tempo ai relatori, l'unica cosa che vorrei ricordarvi è il nostro sito www.lavoroeticasviluppo.it in cui potrete rivedere le immagini del convegno, in cui se siete interessati potete trovare aggiornamenti sulle nostre attività e volentieri magari se qualcuno fosse disposto, avesse voglia di contribuire, di portare bene, siamo in una situazione aperta a ogni tipo di contributo. Grazie.